Oggi la consegna delle aree di cantiere, domani scatteranno i lavori. A quasi due anni dalla chiusura sta per partire la riqualificazione di Piazza Volta e Piazza Roma. Due anni in cui in Piazza Roma hanno chiuso quasi tutti i negozi. Colpa dell'allargamento della zona traffico limitato e del taglio netto dei parcheggi blu a pagamento per tutti in cambio di quelli gialli per residenti hanno ribadito nel corso dei mesi i commercianti che a poco a poco hanno lasciato le proprie attività. L'ultimo in ordine di tempo è il parrucchiere che dopo 12 anni dal 30 gennaio abbasserà la saracinesca per rialzarla in un altro punto della città. Non è soltanto una questione di posti auto ma anche di sicurezza, ha dichiarato al corriere di Como Corrado San Cesario a pochi giorni dal trasferimento del suo negozio. Di sera qui è buio, manca controllo, ci hanno abbandonati. Un grido di dolore che a breve ha annunciato il parrucchiere si trasformerà in una causa al comune di Como. Comune che con i lavori e i nastri di partenza punta a dare nuova vita alle due porzioni inglobate nella Maxi ZTL. Il cronoprogramma prevede l'avvio dei lavori in piazza Volta da domani appunto e già da oggi sono stati eliminati i posti blu che in parte verranno trasformati in gialli per residenti mentre si potrà continuare a parcheggiare nell'autosilo Iasca. Dal primo febbraio il cantiere passerà in via Garibaldi che verrà chiuso al transito mentre per uscire dalla ZTL si circolerà a doppio senso in via Grassi quindi dopo Pasqua toccherà proprio a via Grassi. Per piazza Roma ed intorni il cronoprogramma prevede una cosiddetta fase 1 con l'avvio in piazza Grimaldi e via Pretorio dove le operazioni proseguiranno fino a fine aprile. Dalla prossima settimana durante la fase degli scavi relativi alla nuova fontana sarà presente una ditta specializzata per l'assistenza archeologica. La fase 2 d'aprile a giugno coinvolgerà piazza Roma e via Rodari. Durante la fase 1 la parte di piazza Grimaldi di fronte alla chiesa di San Giacomo sarà chiusa al transito. Da aprile invece verranno gradualmente ridotti i posti per i residenti in piazza Roma.